ho 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 siete contenti ah ah siete contenti vero adesso il Milan ha vinto e adesso potete distruggermi e invece no e invece no perché cari tifosini è facile dare l'ultimatum contro il Frosinone perché l'ultimatum contro il Frosinone ce l'avrei fatta superarlo anche avesse allenato io il Milan non vi preoccupate il Milan era ovvio che vincesse stasera ma la giochiamo altre dieci volte sa partita e la vinciamo altre undici guardate perché è solare che il Milan stasera vincesse e l'ha fatto tra l'altro anche al minimo delle fatiche perché tanto non si è rotto nessun giocatore quindi vuol dire che non abbiamo neanche faticato chissà quanto però veramente è stata una partita ragazzi era namichevole questa era namichevole con tutto rispetto per il Frosinone però se volete dare degli ultimatum dateli a partite come Atalanta Sassuolo Monza perché queste ci aspettano adesso perché l'Atalanta ci farà vedere i sorci verdi sabato e più il Milan fa gol che tra l'altro è arrivato al 43esimo dopo che ne avevano gli altri sbagliato uno con l'amoroso più il Milan vince più pagheremo Dazio l'ho spiegato il live prima ragazzi più pagheremo Dazio perché come sapete mi mi conoscete benissimo soprattutto chi è scritto da un po' io il giorno di Milan Sassuolo 2 a 5 mi sono messo contro Pioli volendo il suo esonero da quel giorno lì non c'è stata una singola partita comprese quelle che ci hanno portato in semifinale di Champions League dove io abbia fatto i complimenti a Pioli forse una forse forse altrimenti per me da quel 2 a 5 Pioli è morto e sepolto e mi farò dare il culo questa cosa perché finché non lo esonero noi siamo seduti qua su questa sedia e voi con i vostri dispositivi a guardare i miei video dove ci raccontiamo le solite cose e ci racconteremo le solite cose finché non viene esonerato però di cosa c'è bisogno perché venga esonerato di qualche sconfitta in più perché il Milan ragazzi sta funzionando in questo modo e Milan va male Pioli ha l'ultimatum vince stranamente la partita dopo l'ultimatum e poi le perde tutte le altre classico esempio il PSG se Milan dovesse fallire con il PSG la panchina di Pioli sarebbe molto a rischio come avevano scritto e Milan batte il PSG continua a far cagare perché c'è la partita di Lecce ecco il Borussia Dortmund e se Milan dovesse perdere contro insomma non vincere contro il Frosinone Pioli sarebbe a serio rischio e il Milan vince adesso c'è Atalanta Newcastle c'è anche il Monza il Sassuolo avversari difficilissimi tra l'altro il Sassuolo penso pure in casa dove faremo delle figure di merda poi magari l'ultimatum arriverà in in Coppa Italia contro il Cagliari e il Milan vince di nuovo perché così funziona ragazzi così finché a morte non ci separi quindi riassunto della situazione dopo tutti questi tre minuti 56 di chiacchiere arriviamo alla conclusione del discorso sono contento oggi no intanto perché la partita cazzo se non vinciamo le zone hanno tanto il campionato quelle altre due sono andate in Champions in un modo o nell'altro qualsiasi allenatore si prenda ci arrivi perché in Champions ci arrivi ragazzi ci arrivi come dissi anno scorso ci si arriva ci siamo arrivati seppur con dei magheggi ma ci siamo arrivati e quindi non c'è più senso raga non c'è più senso e mi hanno giocato bene dal quarantesimo in poi sì ha fatto dei bei gol il 2 a 0 sì però anche lì ragazzi gol che nascono sempre da degli individualismi ci sono sempre delle idee che sono fondamentalmente sbagliate in ogni azione quello che si perde quello che si ubriaca quello che inciampa quello che sbatte ce n'è sempre una ragazzi ciocuese oggi come si chiamava il terzino del frosinone raga e mo ve lo telo fuori eh oiono oggi ciocuese ci ha fatto scoprire oiono dopo che ci ha fatto scoprire già diversi terzini sinistri oggi ci ha fatto scoprire un nuovo giocatore abbiamo sbloccato un new player oiono oiono si è messo lì e ciocuese doing 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 tutta la partita tutta la partita nessuno che salta l'uomo zero ragazzi zero il gioco del milan non è un gioco è un gioco basato sul cross e chi c'è c'è e non ditemi di no perché palesemente così cross dove va la palla va anche oggi visto solo 0 0 3 contropiedi 3 contropiedi buoni la palla arrivava chi era pulisic non ricordo musa e enders tornamolo indietro ditemi voi se questa è una tattica che funziona arrivando alla conclusione della partita di stasera che ripeto lascia il tempo che trova perché siamo obiettivi era l'udinese pagheremo dazio vi è piaciuta la vittoria col genoa abbiamo pagata con juventus napoli udinese vi è piaciuta la vittoria col psg l'abbiamo pagata contro il lecce o vi è piaciuta la vittoria con la fiorentina abbiamo pagata contro il borussia dortmund non vi preoccupate che pagheremo anche questa perché due vittorie in otto partite ragazzi ripeto due vittorie in otto partite non non è il milan cioè voi difendete un allenatore che ha fatto due vittorie in otto partite e dall'altro non solo vi aggiorno sulle statistiche delle vittorie vi aggiorno anche sui gol ultime nove partite perché fino a prima di stasera erano otto adesso sono nove ultime nove partite tre vittorie vuol dire una vittoria ogni tre partite gol fatti 11 gol subiti 14 30 infortuni stagionali di cui 17 muscolari io parlo sempre di date perché i dati sono quelli sono le cose oggettive che non possono mai cambiare e lo sapete bene quindi quando le date la mano sei indifendibile perché c'è proprio se sei trasparente scagionato se a voi questi numeri che me li sono segnati e me li sono segnati se voi questi numeri soddisfano io alzo le mani ve ne vengo a stringere perché veramente non non si può parlare con delle persone che accettano questi dati qui la vittoria di stasera è buona al fine che il milan ha vinto anzi la riconferma di pioli perché buona solo a quello e vedete che già da sabato contro la sap doria e contro l'atalanta il milan avrà diverse gatte da pelare a partire da sabato perché le occasioni che stasera ti ha concesso il frosinone loro non te le concedono allegri ha ragione la partita più importante è la prossima staremo proprio a vedere e ci ritroviamo qui in questo studio su questa sedia a parlarne vedrete cosa viene fuori d'atalanta milan preparatevi